Restano in carcere dunque Francesco Di Mino e Antonello Nicosia, entrambi coinvolte ai primi di novembre nell'operazione antimafia denominata Passepartout, quella condotta da carabinieri e guardie di finanza. Si tratta della medesima operazione che, visto la DDA di Palermo, far finire sotto riflettori le azioni e gli interessi di quella che viene considerata a tutti gli effetti la consorteria mafiosa a Saccense. Il Tribunale del Riesame, a cui il legale di Di Mino e Nicosia, l'avvocato Salvatore Pennica, si è rivolto, ha respinto le relative stanze di scarcerazione. Continuano a succedersi dunque all'interno dell'indagine provvedimenti che di fatto non sembrano ridimensionare per niente il complesso quadro accusatorio formulato dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dai sostituti Francesca Dessì e Geri Ferrara nei confronti di colui di Mino, che viene considerato il capo mafia di Sciacca, e di colui, Nicosia, che nella qualità di collaboratore di una parlamentare entrava e usciva dalle carceri entrando regolarmente in contatto con detenuti al 41 bis e, secondo l'accusa, portando all'esterno i loro messaggi. Un'inchiesta che se nei giorni scorsi è vista l'arrevoca della custodia cautelare in carcere e il luogo dell'applicazione della misura cosiddetta meno afflittiva degli arresti domiciliari nei confronti degli altri indagati, Massimiliano Mandracchi e dei gemelli Paolo e Luigi Ciaccio, accusati di favoreggimento aggravato, ha registrato anche l'iscrizione nel registro degli indagati della deputata d'Italia Viva Giusio Chionero, con lei che dal suo ruolo, esercitando il diritto di eccesso nei penitenziari, di fatto ne agevolava l'ingresso anche a Nicosia. Occhio nero che aveva tentato di chiarire la propria posizione nell'interrogatorio al Tribunale di Palermo, evidentemente non riuscendo appieno nel suo intento. La tesi difensiva di Antonello Nicosia, ex esponente radicale e con una condanna per droga nella sua fedina penale, è stata quella di avere millantato un potere di cui, in effetti, non disponeva e dunque di essersi inventato tutte le cose che diceva e che sono finite nelle intercettazioni che lo riguardano. La difesa di Accursio e di Mino, invece, di non avere più alcun ruolo all'interno di Cosa Nostra, essendone uscite dopo l'espiazione dell'ultima condanna. Inquerenti investigatori ritengono però che il contenuto dell'intercettazione acquisita agli atti nel corso dell'inchiesta inchiodino i protagonisti di questa vicenda le loro responsabilità in un quadro generale nel quale di Mino e Nicosia sono accusati sostanzialmente di essersi occupati di affari illeciti in forme sistematiche di controllo del territorio tipiche del fenomeno mafioso, pur in quello che veniva considerato dagli stessi magistrati come un momento di assoluta difficoltà della cosca saccense. Secondo gli inquirenti, inoltre, i due avrebbero progettato perfino un omicidio, quello di un imprenditore di sciacca da fare fuori secondo le intercettazioni in Marocco. Ancora, di Mino viene considerato al centro di presunti suoi interessi negli Stati Uniti. Complessa la posizione di Nicosia, che oltre ad essere accusato di essere stato un messaggero tra detenute mafiose e piede libero, ha anche da dimostrare le ragioni per le quali nel febbraio di quest'anno a Porta Empedocle ha incontrato due pregiudicati, di cui uno considerato affidato sodale di Matteo Messina Denaro, nel corso del quale i tre avrebbero affrontato alcuni argomenti considerati di rilevante interesse investigativo.